inizio oroscopando questa volta del mese di agosto perché noi ci rivediamo a settembre però per il mese di agosto potete guardare su www.spettacolandotv.it sezione oroscopando lì trovate la parte video iscritta dell'oroscopo del sesso per quanto riguarda invece l'oroscopo settimanale lo trovate ogni mercoledì su tag 24 quindi l'oroscopo della settimana a venire e poi l'oroscopo ridotto del diciamo della settimana sul profilo instagram di Cusano Media Group e l'oroscopo ridotto di agosto sul profilo instagram di Paola Ascri detto questo cominciamo l'oroscopo del sesso di agosto 2024 cominciamo col segno della vite segno di fuoco il mese di agosto riesce ad essere meno intraprendente del precedente mese venere in vergine dal 5 agosto vi dà un aspetto più professionale del solito ma niente vi può impedire di essere esuberanti nelle relazioni voi siete sempre in pole position tra i segni più calienti dell'estate e l'ultima parola ovviamente è sempre la vostra soprattutto a letto quindi un 4s con la parola d'ordine esuberanti andiamo al toro segno di terra agosto porta un po' di stanchezza vi siete dati tanto nel mese di luglio e relax è prioritario lasciatevi andare alle piacevolezze dell'amore ma anche al divertimento senza se e senza ma dal 5 agosto venere in vergine vi spinge a nuovi incontri amorosi oppure vi accontenterete di esaudire i desideri di chi amate diventerete così romantici ad oltranza 4s con la parola d'ordine presi dall'amore gemelli segno d'aria in agosto siete particolarmente calienti le attrazioni sono all'ordine del giorno e voi non vi tirate indietro cedete alle lusinghe e ai facili apprezzamenti di chi vi cortigia spudoratamente sarete di nuovo sconsiderati e ragionevoli nelle questioni amorose e chi è legato da tempo potrebbe vacillare per una persona conosciuta da poco è facile in questo mese dire addio ad un rapporto collaudato e buttarvi in qualcosa di travolgente 4s con la parola d'ordine cedete alle lusinghe cancro segno d'acqua agosto non vi delude l'amore vi sorride e le relazioni portano divertimento ma anche tanta voglia di costruire chi è single non lo sarà per sempre venere il leone vi porta ad aprire nuove storie e a buttarvi nell'estate con un piglio diverso dal solito sarete spregiudicati ma anche romantici marte in gemelli vi rende energici e pronti a tutto anche nella professione 5s con la parola d'ordine top leone segno di fuoco in agosto siete magnifici protagonisti di un mese che vi regala felicità ed intraprendenza i flirt sono quanto di meglio vi possa capitare in questo periodo e molti si divertiranno nella professione spinti da un'area di rinnovamento potreste trovare chi vi piace sul posto di lavoro e unire l'utile al dilettevole marte in gemelli ti rende insuperabile 4s con la parola d'ordine magnifici vergine segno di terra venere in vergine dal 5 agosto ti porta relax ma anche voglia di spensieratezza siete comunicativi e simpatici fino a metà mese l'amore va alla grande con i nuovi incontri che portano molto desiderio chi è in coppia da tempo penserà di fare vacanze separate ha bisogno di capire se il partner fa ancora per voi marte in gemelli vi provoca dovere ma a voi piace dueleggiare con chi vi intriga 4s con la parola d'ordine marte vi sfida bilancia segno d'aria agosto è il mese dei desideri ma dovrete impegnarvi per avere la meglio su tutto e tutti ma sarete gratificati l'amore è un'osi felice poi voi siete bravissimi nel soddisfare il partner la camera da letto non ha segreti per voi chi è single potrà conoscere qualcuno di importante durante una trasferta all'estero 5s con la parola d'ordine amore scorpione segno d'acqua in agosto con venere in vergine sono agevolate le nuove ricizie unite ad incontri sessualmente vivaci a fine mese sarete un po sopra le righe con chi amate volete troppo anche un po meno chi è il vostro fianco non può darvele sempre vinte capite anche il punto di vista dell'altro venendogli incontro 4s con la parola d'ordine sopra le righe sagittario segno di fuoco agosto lo dedicherete ad un viaggio ad inizio mese l'amore vi sorride poi dal 5 agosto con venere in vergine sarete più provocatori con tutti soprattutto con il partner ma la cosa sarà eccitante sfidare chi amate a parole vi farà poi far perdonare sotto le lenzuola attenti alle scappatelle se siete già occupati 4s con la parola d'ordine provocatori capricorno segno di terra agosto vi vedete protagonisti siete pieni di corteggiatori voi sarete confusi ma felici questa venere in vergine è intrigante a fine mese dedicatevi all'amore siete pieni di lavoro e dovete sempre fare i conti con la concorrenza i sentimenti ti rendono amabile e pronto a rilassarvi in vista di nuove battaglie professionali 4s con la parola d'ordine corteggiatori acquario segno d'aria agosto è pieno di opportunità in amore avrete voglia e forza di nuove storie che possono regalarvi la felicità di una notte una storia lunga ed entusiasmante l'importante è partecipare mettere cuore in tutte le relazioni a venire siete un segno fantasioso e con marte in gemelli potrete essere più vivaci in coppia 4s con la parola d'ordine vivaci pesci ultimo segno dello giudico segno d'acqua ad agosto potrete amare senza se senza ma spinti dalle emozioni contrastanti voi siete i maestri delle relazioni contorte ma se non soffrite non vi divertite questo è il mese giusto per conoscere una persona speciale che vi riempirà la vita potreste anche dimenticarvi il lavoro ma è lo scotto che si paga per amore 4s con la parola d'ordine emozioni oroscopando finisce qui l'oroscopo di agosto finisce qui e potete trovarlo su www.spettacolandotv.it sezione oroscopando lì trovate la parte scritta la parte video dell'oroscopo del sesso detto questo per tutto il resto guardate sul profilo instagram di paola spremia i profili social e poi ricordatevi i miei up and down settimanali sulle coppie che si sfasciano o si riuniscono e poi i reel di ogni giorno andate a controllare sul profilo di paolastri instagram mettete mi piace non mi piace insomma mandatemi degli insulti quello che volete purché se ne parli buon agosto a tutti ci rivediamo a settembre con oroscopando ciao grazie a tutti grazie a tutti